L'Abruzzo ha una media di dosi di vaccini somministrate dell'85%, superiore alla media nazionale, dimostrando sul campo di essere in grado di gestire la campagna vaccinale. Lo ha affermato il presidente Marco Marsiglio nel corso della presentazione del libro Ci abbiamo messo la faccia di Giovanni Lamberti sulla gestione del primo anno di pandemia raccontata dai presidenti delle regioni tenutasi a Roma presso la sala caduti di Nasseria di Palazzo Madama. È chiaro poi che la lentezza nell'approvvigionamento dei vaccini crea l'ansia tra la popolazione più a rischio, ha aggiunto Marsiglio. Se arrivano i vaccini abbiamo già preparato degli accordi con i circa mille medici di medicina generale presenti in Abruzzo ai quali, ha concluso Marsiglio, spero aderiscano tutti quanti per mettersi concretamente a disposizione.